Buonasera a tutti amici e bentornati al TG di AC Milan. La Champions League sta per tornare, ricordiamo che il nostro Milan esordirà a San Siro contro il Liverpool il 17 di settembre alle ore 21. Domani infatti apriranno ufficialmente le vendite per quanto riguarda i biglietti per gli abbonati esattamente alle ore 15. La vendita libera invece sarà disponibile venerdì 6 settembre dalle ore 12. Chi di voi andrà? Fatecelo sapere ovviamente nei commenti e divertitevi, speriamo anche per me che non riuscirò purtroppo a esserci. Parliamo della Serie A ma stavolta della Serie A femminile, infatti ieri le nostre ragazze hanno esordito contro il Como, purtroppo sono state sconfitte per 1-0. Rivedremo contro la Fiorentina sabato 14 alle ore 18. Nonostante il suo esordio con la maglia rosso-nera contro la Lazio, dove ha anche fatto un assist per il successivo poi gol del pareggio di Leao, domani a casa Milan alle 15.30 si terrà la presentazione di Abram. Il numero 90 inglese risponderà a tutte quante le domande dei giornalisti e ricordiamo che sarà legato al Milan fino al 30 di giugno del 2025. Queste sono tutte quante le nostre notizie di oggi, come al solito vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social targati AC Milan Inside.